5 invenzioni incredibili fatte dalle donne via numero 1 la lavastoviglie fu creata nel 1886 da josephine crochen fece questo poiché il suo personale di servizio rovinava e a volte rompeva le sue preziose porcellane numero 2 il monopoly fu inventato nel 1903 da elisabeth magie originariamente la magie fu ispirata a creare il gioco per dimostrare gli effetti devastanti dell'usurpazione delle terre ci sono buone probabilità che tu abbia ricevuto un bacio perugina al posto di una mimosa o anche entrambe vabbè questo non cambia bene sapevi che il bacio perugina è stato inventato proprio da una donna nel 1922 luisa spagnoli infatti crea un cioccolatino fatto con cioccolato e granella di nocciole avanzate chiamato inizialmente cazzotto poiché è simile alla nocca di una mano successivamente un suo collega giovanni buitoni lo ribattezzò come bacio perugina numero 4 il kevlar fu inventato dalla chimica stefani cuolec si tratta di una fibra utilizzata per fare i giubbotti antiproiettile senza mary anderson invece non avremmo il tergicristallo che dal 1916 ci aiuta contro le forti giornate di pioggia in macchina ecco la mia mimosa virtuale buona festa a tutti voi